C'è più un conto e la cartina è più natura anche nella gestione amministrativa della cosa pubblica. Quindi noi facciamo appena a te e a un più presto che è importante questa organizzazione durante il conto, il cambiamento del petro, il cambiamento delle tante, la missione dei tini, la missione dei polipiati, e scordatevi che minormente poi troverete la più delicata e connessa. Quindi calmo al tesore, io e noi gli altri, la tesore della Coteca, e mi auguro che a Piavella di loro, delle prossime volte, un tecnico e non un altro politico. Grazie. Allora, il mio voto è sì, ma il sì è stato la più decidenza modificata, perché i messaggi voto sì, volete, volete prenderci l'essere, che i tanti sono finiti. Sono troppo difficile, perché si è fatto a determinazione, ho detto che c'è stato qualcuno che ha pensato di chieste e non chieste. Certamente me ne aveva preghi a prendere il mio consiglio. Per quanto riguarda questo voto sì, vuole essere voto sì, costruttivo, ma non per rimanerci voto nell'altra volta. Senta a poter ripagare come succede, tutto questo andiamo. Delle città che abbiamo studiato il mio consiglio, sì. Umi si nasce, non si diventa. Si ricordi? Sì, e noi siamo sicuri. Noi non meccanizziamo il nostro voto, non l'abbiamo fatto mai, passato, e non lo vogliamo parlare di tutti. Noi siamo, perché questa città possa essere governata da un buon sindaco, da una pura amministrazione, e speriamo che i risultati possono venire da qui a un anno. Grazie a tutti i risultati. Io mi dico che tutti i risultati dovrebbero chiedere se voi, che non siete per partigliare per la scala calazza. Perché qualche consiglio comunale che è stato decontentato da qualcun altro, non lo rincazza la politica, in parte, in parte, in parte materiale. Ma poi lo parleremo andando, c'è il partito o quell'altro, o qualsessore. Io mi assumo la visione del verbo. Il cuore, la macchia di luce, sono disponibile anche a rispondere la macchia di un anno. Io ritengo che da oggi poi, il signor Consigliere Monaco, che atto in atto, voterà a tenuto coscienza, come accaduto fino alla parte delle città. Grazie. Grazie al Consigliere Monaco. Partiamo alla colorazione del 50 ramo del 200. Non aveva chiesto la loro la contiglia del 100 al 800. Allora, bastano poi, così mettiamo coriniti.